Il Movimento Raeliano, fondato nel 1973 da Claude Vorilon, conosciuto come Rael, è un'organizzazione che continua a suscitare curiosità e dibattiti in tutto il mondo. La storia del movimento è tanto affascinante quanto controversa, caratterizzata da affermazioni straordinarie e una filosofia unica che fonde elementi di scienza e spiritualità. Le origini del Movimento Raeliano Secondo Rael, il 13 dicembre 1973, durante una visita al cratere di un vulcano spento vicino a Clermont-Ferrand, nella Francia centrale, fu contattato da un rappresentante di una civiltà extraterrestre chiamata Elohim. Questo incontro segnò l'inizio del Movimento Raeliano, che ora conta circa 90.000 membri sparsi in 84 paesi. I gruppi più numerosi si trovano in Francia, Giappone, Canada, soprattutto in Quebec, e Stati Uniti, particolarmente in Florida. In Italia, il Movimento è attivo dagli anni Ottanta nelle principali città e conta circa 700 fedeli. Il messaggio raeliano viene diffuso attraverso i libri di Rael, Assemblee e un sito internet ufficiale. La filosofia raeliana I raeliani credono che la vita sulla Terra sia il risultato di una panspermia diretta, ossia la semina deliberata di vita da parte di una civiltà extraterrestre. Secondo la narrazione raeliana, un extraterrestre di nome Yahweh, proveniente da una civiltà vecchia di 25.000 anni, avrebbe trasmesso a Rael una spiegazione delle origini e del futuro dell'umanità. Questi messaggi sono stati pubblicati da Rael nel libro Il messaggio degli extraterrestri, successivamente ristampato con il titolo Intelligent Design, Message from the Designers. Creazione e religioni I raeliani interpretano il termine biblico Elohim come coloro che vennero dal cielo, riferendosi così agli extraterrestri. La loro filosofia sostiene che molte delle grandi figure religiose della storia umana, come Mosè, Gesù, Buddha e Maometto, siano stati messaggeri degli Elohim. Secondo i raeliani, questi messaggeri furono scelti per guidare l'umanità e prepararci all'incontro con i nostri creatori. Progetti futuri L'ambasciata degli Elohim Uno degli obiettivi principali del movimento raeliano è la costruzione di un'ambasciata per accogliere gli Elohim al loro ritorno sulla Terra. Questa ambasciata, che dovrà essere riconosciuta come territorio extraterrestre protetto, rappresenta un sogno ambizioso che i raeliani sperano di realizzare attraverso la diffusione del loro messaggio e il reclutamento di nuovi membri. Scopi e ideali Il movimento promuove valori umanistici e scientifici, tra cui la libertà sessuale, la responsabilità collettiva e il progresso scientifico. Una delle proposte più discusse è quella della geniocrazia, un sistema di governo basato sull'intelligenza e le capacità di problem solving dei cittadini. Inoltre, i raeliani sostengono le tecniche eugenetiche e gli organismi geneticamente modificati come strumenti per combattere la fame nel mondo. Controversie e critiche Il movimento raeliano non è immune alle critiche. Alcune delle affermazioni del movimento, come quella riguardante la clonazione umana, hanno suscitato scetticismo e accuse di infondatezza. Nonostante ciò, il movimento insiste sulla veridicità delle sue affermazioni e continua a operare in numerosi paesi senza mai aver subito condanne legali. Conclusione Il movimento raeliano rappresenta un caso unico nel panorama delle nuove religioni e filosofie. Con una storia affascinante e una missione ambiziosa, continua a sfidare le concezioni tradizionali della vita e dell'universo. Che si tratti di verità rivelate o di pura fantasia, il realismo offre una visione del mondo che spinge a riflettere e a esplorare nuove possibilità.